Caterina Pess, parlamentare del PD, la Camera si appresta a votare le nuove norme contro l'omofobia che prevedono tra l'altro l'estensione della legge Mancino anche ai reati legati alle discriminazioni di genere. Perché una parte della destra italiana parla di proposta illiberale? Perché interpreta l'articolo 3 della Costituzione come la condizione per la uguale libertà di espressione a tutti. E noi riteniamo che l'articolo 3 della Costituzione prima di tutto garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte a quello che è il loro diritto di cittadinanza. E questa è una legge che va finalmente nella direzione di garantire uguale diritto di cittadinanza a coloro che sono di diverso orientamento sessuale rispetto all'eterosessualità, agli omosessuali, ai transgender. Cioè in realtà finalmente mette una parola chiara sul fatto che esistono delle discriminazioni di genere in questo Paese e si avvicina non solo ai principi della Costituzione ma anche agli ordinamenti direi giuridici del resto dell'Europa. Da più parti si ribadisce la necessità di giungere all'approvazione di un testo largamente condiviso ma viste le spaccature in aula si può ipotizzare un voto finale senza il PDL? Ma io credo che su condizioni di coscienza e su voti di coscienza ci sia l'opportunità e ci debba essere anche la necessità e il diritto di votare secondo quella che è la libera opinione. Qui non stiamo facendo delle scelte condivise che riguardano la politica economica, l'Imo, l'annanzamento dell'Ivo o le riforme costituzionali. Qui stiamo parlando della nostra idea di cittadinanza e penso che abbiano in questo senso spazio tutte le diverse posizioni e che il Parlamento che in fondo rappresenta il punto di vista degli italiani nelle varie posizioni abbia diritto legittimo di confrontarsi e poi di deliberare in questo senso la maggioranza a prescindere dalle maggioranze trasversali ma direi invece andando incontro a quella che è la modernità di questo paese che si è espressa anche attraverso la rappresentazione.